Perché abbiamo i campi da tennis, là ci sono i campi da calcetto, c'è la piastra da basket e pallavolo, abbiamo creato due campi da beach e dopo chiaramente abbiamo riassettato totalmente il campo da bocce. Ecco, quando vi dico il centro sarà il centro di tutti. Noi, il nostro paese, poi si riempano tutti la bocca, è il paese che dobbiamo fare per i giovani, i giovani, i giovani. E i nostri anziani, i nostri veci come noi altri, il nostro patrimonio, le persone sagge che ci danno un indirizzo. Ecco, questo centro deve essere il centro anche dei nostri anziani, anche perché noi ormai... Ecco, perciò sarà data in gestione a un'associazione importante degli anziani dove vogliamo che questo centro diventi anche il centro degli anziani. Qua, tra 15-20 giorni nascerà chiaramente il punto di ristoro di questa zona, perché sarà una zona molto vissuta, molto diversa.